Inizia dall'abbraccio spirituale con la chiesa retina cortonese Biturgenze il percorso in Italia dei giovani studenti ortodossi, rappresentanti del Comitato Cattolico per la collaborazione culturale del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, che trascorrono i mesi estivi nello studentato internazionale dell'Associazione Rondine per studiare la lingua e la cultura italiana. Dalla Cittadella della Pace a settembre si sposteranno poi a Roma per proseguire gli studi accademici. Gli studenti hanno presentato i propri progetti all'Arcifescovo Fontana. Spero che sia il primo passo di un rapporto fruttuoso e duraturo con la chiesa retina. Prima delle divisioni la chiesa era una sola con tanti patriarcati e tutti insieme formavano la comunione della chiesa. Ora, la presenza di questi studenti ci dà la speranza di rivedere questa meraviglia del passato. Direbbe Giovanni Paolo II che si respira due polmoni, con questa ricchezza di tradizioni immense, tesori di spiritualità, di cultura, anche da paesi e da popoli così lontani fino all'India. Quindi sono i mesi di questa ricchezza delle differenze che si incontrano, che dialogano, che studiano la buona lingua italiana in Toscana e che poi anche vivono dei momenti di intensa spiritualità. Anzi, mi parrebbe bello da Tele San Domenico invitare chi volesse nella nostra diocesi ogni giovedì alle 19.30 fino alla fine di settembre c'è questa preghiera ecumenica, una grande occasione di ricchezza spirituale che possiamo condividere con chi lo vorrà.